Aveva ricevuto il reddito di cittadinanza per un totale di oltre 11.000 euro, ma si era dimenticata di dichiarare le vincite al gioco e i redditi del marito, evasore totale, per 123.000 euro. Una 48enne di Vallefoglie è stata smascherata e denunciata dalla compagnia guardia di finanza di Pesaro. Gli accertamenti delle fiamme gialle, svolti in sinergia e in collaborazione con l'Inps, hanno permesso di appurare che quanto dichiarato nella domanda presentata all'Istituto non corrispondeva alla disponibilità patrimoniale della famiglia. La donna, infatti, aveva omesso di dichiarare ai fini Isee le vincite conseguite con i giochi online per un ammontare di circa 300.000 euro per gli anni 2017 e 2018. Inoltre non aveva comunicato, pur essendone obbligata, né l'acquisto di un'autovettura né che due componenti del proprio nucleo familiare fossero stati nel frattempo assunti come lavoratori dipendenti. Tutte queste falsità hanno consentito alla 48enne di percepire indebitamente nel 2019 e mantenere lo scorso anno il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 11.825 euro. La donna, non avendo i requisiti per beneficiare del contributo, è stata segnalata sia all'autorità giudiziaria per aver percepito erogazioni senza averne diritto e ai danni dello Stato, che all'Inps competente per la revoca del sostegno e il recupero della somma incassata.